La Casa dei Girasoli festeggia il suo primo anno dall'inaugurazione, un bilancio positivo? Ne parliamo con il responsabile Alberto Taddei. Sì, possiamo dire che il bilancio è positivo. Sono stati avviati i servizi per anziani principalmente, quindi l'accoglienza residenziale 24 ore, l'accoglienza di urna e dal 1 marzo è partito anche un servizio importantissimo, l'accoglienza residenziale 24 ore, però temporanea, per situazioni di emergenza o bisogni comunque programmabili delle famiglie. È partito anche il nido, il nido di infanzia e la zebra può accogliere 10 bambini. A settembre avvieremo gradualmente una serie di servizi che aiuteranno l'anziano e la famiglia rimanere nella propria abitazione, dai pasti a domicilio, da una lavanderia, un servizio di lavanderia proprio specifico, ovviamente a basso costo eccetera, per gli anziani che volessero usufruirne, il bagno a domicilio. Era una grossa scommessa perché la struttura come vediamo è imponente, è una delle principali del centro Italia, quindi è servita per un progetto assolutamente importante che credo che marchi il grado di civiltà, di welfare di un territorio, quindi su questo siamo contenti, siamo contenti di aver partecipato fin dall'inizio dando incomodato gratuito il terreno. Questa è una struttura che qui a San Giustino però serve tutto un territorio, l'Alta Valle del Tevere, sia Umbra che Toscana, quindi da un servizio più ampio, la domanda di servizi è in crescita, una comunità deve saper rispondere e San Giustino penso che abbia da questo punto di vista un vantaggio, ha sempre cercato di rispondere al meglio.